Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube Dental Care. In questo video vi parlerò appunto dell'odontogenesi. Come dice il nome stesso, odontogenesi, stiamo parlando del processo, di quell'insieme di processi embrionali che portano alla formazione dei denti. Faccio questo video perché appunto mi è stato richiesto da un utente che appunto segue il mio canale ed è iscritto appunto al mio canale. Lo ringrazio chiaramente per questa idea che mi ha dato e per questo motivo ho pensato appunto di fare questo video che ha uno scopo ovviamente informativo però può essere d'aiuto sia a tante persone che potrebbero essere appunto curiose diciamo di questo argomento sia anche per studenti che magari appunto vogliono avere un piccolo confronto in più. Ovviamente essendo un video su YouTube sarà chiaramente un video semplificato infatti cercando anche su internet, su YouTube più che su internet questo argomento ci sono veramente pochi canali in italiano che lo trattano la maggior parte dei canali sono appunto inglesi dove si trova appunto il materiale migliore su questo tipo di argomento Per questo motivo ho deciso di farvi io questo video dietro suggerimento appunto di questo utente che ringrazio Ovviamente ripeto sarà un video molto molto semplificato e molto generale non posso chiaramente scendere nei dettagli di questo argomento che è comunque un argomento molto complesso Prima di iniziare iscriviti al canale in modo tale che tu possa sempre rimanere aggiornato su tutti i contenuti che pubblico il 90% degli utenti che vedono i miei video su YouTube non sono iscritti al canale è peccato perché appunto potreste perdervi anche tutti gli altri video che sono appunto presenti sul mio canale ma iniziamo subito quindi abbiamo detto che l'odontogenesi è quel processo che porta alla formazione dei denti e rientra in una disciplina più vasta che è appunto l'embriologia L'embriologia non è altro che lo studio dei processi biologici con cui da una cellula uovo che è fecondata dallo spermatozoo ha origine un nuovo individuo a livello dell'ampolla della tuba uterina Infatti c'è una sola cellula uovo con milioni di spermatozoi ma solo uno riuscirà appunto a raggiungere la destinazione finale E per andare appunto in maniera molto semplice e subito al punto fondamentalmente le fasi di crescita dell'individuo sono queste abbiamo la fase preembrionale, la fase embrionale, la fase fetale e il periodo della crescita le andiamo a vedere molto velocemente nel periodo preembrionale che dura all'incirca tre settimane praticamente si verifica quello che viene definito come processo di gastrulazione cioè si formano i tre foglietti embrionali primitivi Poi si va appunto nel periodo embrionale che ha una durata di cinque settimane in questo periodo si formano gli organi avviene la cosiddetta organogenesi del periodo più critico in cui ovviamente la donna non deve essere esposta a sostanze tossiche o a particolari situazioni perché dal momento che in questa fase sta avvenendo la formazione degli organi qualsiasi processo anomalo potrebbe appunto interferire con la formazione stessa degli organi Infatti in odoteatria non a caso, diciamo, durante il periodo dell'organogenesi è sconsigliabile trattare la donna in gravidanza e proprio per questo motivo Poi c'è il periodo fetale che va dalla settimana 9 fino alla nascita Gli organi che si erano formati durante l'organogenesi in questo periodo tendono praticamente a maturare l'intero organismo si prepara alla vita esterna e si formano anche quelli che sono gli annessi embrionali utili per connettere l'embrione alla madre per poterlo andare a nutrire Alla fine poi si giunge al periodo della crescita che va appunto dalla nascita fino all'adolescenza e questo è un periodo altrettanto molto importante Andiamo a vedere molto velocemente lo sviluppo della faccia per poi arrivare appunto alla formazione, allo sviluppo dei denti Lo sviluppo della faccia avviene praticamente attorno alla fine della quarta settimana di vita embrionale dove appunto il volto inizia a svilupparsi ma da dove parte tutto? Da una struttura che prende il nome di stomodeo o stomodeo come vedete appunto in questa foto è scritto qui Questa parte grigia è l'ostomodeo Che cos'è l'ostomodeo? È diciamo una primitiva cavità buccale una cavità buccale appunto dell'embrione in buona sostanza Si va infatti ad invaginare l'ectoderma che è uno dei tre foglietti embrionali quindi si va a formare questa cavità e quindi poi altre cellule che si chiamano cellule della cresta neurale migrano e formano due processi processi frontonasali che come dice il nome stesso daranno origine alla fronte e al naso e gli archi branchiali gli archi branchiali daranno origine diciamo a varie strutture del volto stesso e del collo e poi arrivano anche altre cellule delle creste neurali sempre che andranno a formare il processo mascellare che andrà appunto a formare la mascella e il processo mandibolare che invece andrà a formare la mandibola è chiaro che il labbro superiore avrà origine dalla fusione dei processi nasali e mascellari mentre il labbro inferiore avrà origine dal processo mandibolare questo è diciamo in maniera molto 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 semplificata lo sviluppo della faccia è chiaro che nell'ambito dello sviluppo della faccia poi è chiaro se siete interessati ad avere diciamo un video più approfondito su questo argomento soltanto posso farlo perché ovviamente è un argomento molto lungo però io per arrivare alla formazione dei denti ve l'ho dovuto trattare molto velocemente ma se volete un video specifico fatemi sapere poi ci arriva anche allo sviluppo del palato che è molto importante nell'embrione che si forma appunto il palato perché? perché ovviamente durante la vita embrionale praticamente la bocca e il naso non sono separati sono comunicanti tra di loro e quindi con lo sviluppo del palato si separa il cavorale dalla cavità nasale e questo è di fondamentale importanza per permettere per esempio anche la deglutizione non a caso in alcune patologie che si chiamano appunto le schisi le labio palato schisi oppure anche patologie che vengono conosciute più che come schisi come per esempio labbro leporino e così via praticamente c'è una mancata chiusura una mancata separazione della cavità nasale da quella orale o è completa questa mancata diciamo chiusura oppure parziale nella stragrande maggioranza dei casi e quindi dai processi nasali che abbiamo visto prima si forma il palato e quindi praticamente i vari processi palatini tra di loro tendono a fondersi lungo la linea mediana per formare il palato definitivo il cui segno di confine è proprio rappresentato da questo puntino qui in avanti che prende il nome appunto questo qui che vi sto toccando adesso che prende il nome di forame incisivo anche qui lo sviluppo del palato l'ho semplificato all'osso se siete interessati ad approfondire maggiormente l'argomento fatemi sapere qui sotto nei commenti perché posso farvi un video dedicato solo sullo sviluppo del palato ma senza perdere tempo andiamo ancora avanti anche per la lingua vale lo stesso ragionamento se volete un video dedicato fatemi sapere sempre nei commenti in ogni caso molto velocemente per quanto riguarda lo sviluppo della lingua essa origina dal foglietto embrionale che è appunto il mesoderma quindi dal mesenchima si formano due tubercoli laterali e uno mediano c'è una fusione di questi vari tubercoli e si forma praticamente la parte anteriore della lingua si formano a partire da questi tubercoli i due terzi anteriori della lingua mentre dal terzo e dal quarto arco branchiale si formerà la parte più posteriore della lingua quella che sta appunto più dietro quindi il terzo posteriore della lingua velocemente anche lo sviluppo della mandibola per quanto riguarda lo sviluppo della mandibola essa origine dal primo arco branchiale dove c'è una cartilagine che funge da sopporto nello sviluppo della mandibola che prende il nome di cartilagine del Mechel ed è assente negli individui agnati cioè quelli che si nutrivano per aspirazione la mandibola poi è comparsa per la prima volta nei rettili per favorire la predazione la cartilagine di Mechel rimane fino a 15 anni e garantisce l'accrescimento della dimensione verticale e degenera alla fine quando si forma appunto la sinfisi mentoniera che è praticamente la provenienza che abbiamo tutti quanti noi a livello del mento come ho già parlato nei video anche sulle leggi di Planas la mandibola alla nascita è molto più piccola rispetto all'osso superiore cioè alla mascella e con l'allattamento al seno poi può appunto raggiungere delle dimensioni congre la mascella invece come si sviluppa non l'ho messa nelle diapositive ma ve lo dico anche qui molto velocemente c'è un singolo centro di sviluppo e tutto parte intorno alla sesta settimana di vita intrauterina ma già alla nascita la mascella presenta già il 50% delle dimensioni che avrà in età adulta questo perché la mascella essendo l'osso superiore risentirà ovviamente dalla spinta di crescita dell'encefalo che ovviamente nell'embrione e anche nel neonato si sviluppa molto rapidamente tant'è che la volta del cranio è una delle prime parti della testa a completare il suo sviluppo andiamo adesso invece sullo sviluppo dei denti e quindi sulla odontogenesi che significa appunto processo di sviluppo e di formazione dei denti intorno alla sesta settima settimana si formano quelle che vengono definite le gemme dentali dall'ectoderma all'interno del mesenchima e quindi si ha questo primo stadio che è praticamente lo stadio di gemma dalla gemma dentale poi avrà origine l'organo dello smalto che a sua volta andrà a formare lo smalto dentale le cellule mesenchimali invece andranno a formare un'altra struttura che prende il nome di papilla dentale la papilla dentale darà origine a sua volta alla dentina e alla polpa mentre il sacco darà origine al cemento radicolare e al legamento parodontale poi successivamente abbiamo lo stadio di cappuccio dove le cellule epiteliali dello smalto inglobano le cellule mesenchimali fino ad arrivare allo stadio di campana dove l'organo dello smalto per via della crescita delle cellule assume praticamente una forma a campana e le cellule mesenchimali formeranno gli odontoblasti l'organo dello smalto invece formerà gli ameloblasti andiamo un attimino a semplificare e riassumere quello che abbiamo detto dell'odontogenesi praticamente abbiamo la gemma dentale che darà origine al cosiddetto organo dello smalto l'organo dello smalto a sua volta formerà appunto come dice il nome stesso organo dello smalto lo smalto dentale mentre per quanto riguarda appunto le cellule mesenchimali le cellule del mesenchimo andranno a formare due strutture la prima struttura è praticamente la papilla dentale la papilla dentale formerà appunto due organi importanti del dente due tessuti in più che organi scusate due tessuti importanti del dente questi due tessuti sono appunto la dentina e la polpa dentale il sacco invece darà praticamente sempre delle cellule mesenchimali origini il sacco darà invece a sua volta origine al cemento della radice e anche al legamento parodontale che è appunto l'apparato di supporto del dente in buona sostanza ovviamente le le cellule diciamo dell'organo dello smalto daranno appunto origine allo smalto stesso e quindi le cellule dello smalto prendono il nome praticamente di ameloblasti le cellule invece mesenchimali formeranno gli odontoblasti che sono invece le cellule appunto della dentina vediamo adesso appunto la dentinogenesi la dentinogenesi appunto è la formazione della dentina la dentina appunto viene ad essere prodotta e prodotta da delle cellule che prendono il nome di odontoblasti chiaramente la differenza più importante tra lo smalto e la dentina praticamente è che la dentina comunque sia rimane poi per tutta la vita un tessuto vivo cioè che cosa significa mi spiego meglio un tessuto vivo sensibile capace di crescita e anche di processi di riparo quindi mantiene la sua componente cellulare che sono gli odontoblasti può ripararsi grazie per esempio alla formazione della dentina di reazione che in alcuni casi si forma nel momento in cui il dente subisce un insulto ed è formata praticamente la dentina da una componente minerale che è intorno all'incirca al 70% di idrossi apatite in buona sostanza i tubuli della dentina che sono queste strutture orizzontali che vedete qui sono responsabili del dolore della cosiddetta teoria idrodinamica del dolore dentinale la teoria dello sheer stress ma di questa non ve ne parlo altrimenti arriveremo a un video molto più lungo e così comunque un argomento complesso che non si può trattare in tre minuti appunto quindi per quanto riguarda la teoria idrodinamica del dolore dentinale diciamo se siete interessati vi posso parlare di ciò in un video a parte fatemi anche qui sapere nei commenti questo è per quanto riguarda appunto lo sviluppo della dentina passiamo adesso invece allo sviluppo dello smalto lo sviluppo dello smalto dentale appunto prende il nome di amelogenesi ed è appunto lo smalto dentale prodotto dagli ameloblasti avviene ovviamente in due fasi in una fase secretiva dove prima appunto viene apposta la matrice organica che è quella parte non mineralizzata in buona sostanza e poi c'è una seconda fase maturativa in cui diciamo si verifica una mineralizzazione dello smalto stesso fino a raggiungere addirittura un 98% di idrossepatite quindi di componente minerale e quindi ovviamente questo rappresenta il tessuto più duro del corpo umano tessuto che però non è in grado diciamo di rigenerare ed è anche un tessuto morto non vitale e infatti diciamo che la meloblasta una volta che termina la posizione dello smalto è stato visto istologicamente che tende a morire diciamo a degenerare in buona sostanza però rimane appunto lo smalto a posto per avviarci alla chiusura del video vediamo appunto la formazione della radice e quindi anche la cementogenesi cioè la formazione del cemento radicolare diciamo che la formazione della radice avviene dopo la dentinogenesi e la melogenesi dove appunto una struttura che prende il nome di guaina di Ertwig praticamente si scrive così vabbè poi la potete anche trovare sui libri si chiama appunto guaina di Ertwig praticamente questa struttura va a indurre la formazione sia del cemento che della dentina a livello ovviamente della radice del dente perché vi ricordo rapidamente a livello della corona abbiamo questo strato esterno che è lo smalto del dente più internamente abbiamo appunto la dentina ancora più internamente abbiamo appunto la polpa del dente per quanto riguarda invece la radice abbiamo appunto esternamente il cemento radicolare internamente la dentina e ancora più internamente anche qui la polpa dentale ovviamente la cementogenesi cioè la formazione del cemento è molto simile diciamo anche alla dentinogenesi come processi e lo stesso cemento radicolare da un punto di vista di istologia è molto simile anche all'osso il cemento radicolare ha il 65% di idrossi apatite quando un dente praticamente sta sviluppando quella che è la sua radice esercita si dice una visse eruttiva cioè una spinta eruttiva ma nel momento in cui appunto la formazione della radice si è completato ovviamente il dente non esercita più una spinta cioè una cosiddetta visse eruttiva e questo vale anche per i denti del giudizio è un falso mito per esempio che i denti del giudizio diciamo determinano sempre uno spostamento di altri denti lo determinano soltanto nel momento in cui per esempio hanno appunto ancora una spinta eruttiva perché la radice o le radici in questo caso non hanno completato il loro sviluppo ovviamente per i denti definitivi la formazione della radice non avviene appunto subito ma avverrà appunto durante le varie fasi della permuta dentale io spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un mi piace condividetelo con altri utenti se avete bisogno di approfondimenti dubbi domande o volete appunto che approfondisca qualche altro tema con qualche video a parte sugli argomenti visti oggi e così via fatemi sapere nei commenti o contattatemi tramite email come preferite vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti